Non mi sono appena svegliato leggendo questa fantastica notizia della lista segreta dei personaggi famosi che non lasciano le mance ai fattorini e ai rider di Deliveroo, no? Al di là della totale infondatezza della notizia, poco importa, però volevo dire una cosa. Parlano tutti di lotta di classe 2.0, no? E la cosa che stanno mettendo attenzione sulle mance, che fa parte di un retaggio americano che è il non plus ultra dello sfruttamento del capitalismo. Cioè, in America le mance sono obbligatorie, perché il datore di lavoro ti può pagare di meno. E se tu non dai la mancia, a causa di un danno, è peccato che il modo meno sindacalizzato è tutelato per lavorare. Cioè, la tua sopravvivenza di lavoratore non può essere garantita dal cliente, perché rischi di fare una vita di merda. E non capire questo è spostare l'attenzione sulle mancette. È la cosa meno di sinistra e meno lotta di classe possibile, è stupido. E al di là di tutto ci tengo anche a dire che a me le liste di proscrizione pubblica hanno sempre puzzato di fascio. Che poi io ormai ci ho perso le speranze di che al di là della totale infondatezza della notizia poco importa, anche se sarebbe un po' sti cazzi, cioè voi avete stato online, dovreste un po' verificare le notizie. Non è che arriva il Wikileaks di Deliveroo e senza alcun tipo di prova allora riporto copia carbone della notizia. Così perché il titolo è accattivante, so che mi fa click, mi porto attenti, cioè avete rotto i coglioni, ve lo dico proprio con tutto il cuore. Iniziate a fare il vostro lavoro come si deve.